RESISTENZA E' un governo che salva le banche e gli garantisce anche i suoi passivi, che dà una mano e utilizza la speculazione finanziaria per spaventare il paese e che invece sta demolendo i diritti dei lavoratori e affossando l'economia. Quindi siamo qua per dire che bisogna smetterla con questa speculazione finanziaria, bisogna combattere la speculazione, metterne la montagna e bisogna redistribuire risorse dall'alto in base, dai ricchi e i propri. E' perché c'è bisogno in Italia di avere le banche pubbliche e non private, perché le banche devono servire a prestare i soldi per far funzionare l'economia, mentre oggi le banche private gli danno i soldi dalla Banca Centrale Europea e li usano per speculare. Questo siamo qua a dire. E poi da ultimo una cosa. Monti ha detto che la crescita italiana è anche dovuta alla crescita del capitalismo. Ce ne eravamo accorti anche noi. L'Italia e il capitalismo oggi sembra l'Unione Sovietica di Brest, in cui non funzionava più niente ma continuavano ad andare avanti uguale. Questo capitalismo è fallito perché produce guerre, disoccupazione, recessione. Per questo noi diciamo che bisogna cambiare, ridistinguendo il rendito, sviluppando i beni comuni, sviluppando l'intervento pubblico in economia per fare una riconversione ambientale e sociale dell'economia. Queste sono le cose che dobbiamo fare se vogliamo andare ai nostri figli in futuro e non invece questo disastro che non ci sta preparando. Loro vogliono precarietà, vogliono manomissione all'articolo 18, vogliono le privatizzazioni, vogliono distruggere la scuola pubblica e lo stato sociale. Vogliono la controriforma delle pensioni. Noi vogliamo far pagare la crisi a chi l'ha provocata, ai ricchi, al grande padronato, alla finanza, a tutti gli evasori fiscali. Loro vogliono le spese militari, vogliono gli F-35, vogliono la DAF e le grandi opere mangiassondi. Noi vogliono un lavoro sicuro e divitoso, un rendito decente per tutte e per tutti. Loro vogliono farci pagare il debito, distruggendo democrazia e diritti ovunque, dalla Grecia all'Italia, passando per tutta l'Europa. Noi vogliamo i beni comuni, vogliamo i beni pubblici, vogliamo la salvaguardia dell'ambiente e della salute. Loro vogliono il stravolgimento della Costituzione, introducendo il pareggio di bilancio. Noi vogliamo lo stato sociale, l'istruzione pubblica e i diritti civili e sociali. Loro vogliono la repressione, vogliono perseguire i migranti, vogliono attaccare i nostri diritti e la nostra libertà. Noi vogliamo la solidarietà con chi lotta e la libertà di tutti, dalla Grecia alla Val di Susa, alle lotte in tutti i luoghi di lavoro. Che vengono il rapporto di tutti i luoghi di lavoro. Che vengono, che vengono, va a prima che non è la calda. Oh, 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 oh. Porgli, aderno, ancora un pischio e dentro. Porgli, aderno, ancora un pischio e dentro. Porgli, aderno, ancora un pischio e dentro. Grazie.